Sono 625 di età compresa tra i 6 mesi e i 96 anni i nuovi casi di positività registrati in Abruzzo su 3.951 tamponi con una percentuale che va ben oltre il 15% dei positivi sul totale per la precisione 15,8%. Dei nuovi casi 208 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. Sono complessivamente 15.143 i casi positivi al Covid-19 registrati nella nostra regione dall'avvio dell'emergenza sanitaria i positivi con età inferiore ai 19 anni sono 106 di cui 29 in provincia dell'Aquila, 16 in provincia di Pescara, 18 in provincia di Chieti, 43 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi e sale a 602 di età compresa tra 56 e 92 anni 2 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Teramo, 1 in provincia di Pescara e 2 in provincia di Chieti. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 4.669 tra dimessi e gueriti più 77 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 9.872 più 541 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 319.079 test. 513 pazienti più 29 sono ricoprati in ospedale in terapia non intensiva, 48 più 5 in terapia intensiva, mentre gli altri 9.311 più 507 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asle. Del totale dei casi positivi 4.531 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila più 212, 2.928 in provincia di Chieti più 131, 3.391 in provincia di Pescara più 100, 3.967 in provincia di Teramo più 185, 134 fuori regione più 3 e 192 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.